Salve ragà, è finita un quarto d'ora della partita e... Niente, manco riesco ad incazzarmi più, ne manco riesco ad incazzarmi più perché tanto... è inutile, è inutile, di che cazzo, che te vanno incazzare? Sarà arrivato l'ora, è il momento che stanno in attorno e lo mandano via? No, mi usciranno quelli che diranno, eh ma è il più forte di noi, però loro c'hanno Ronaldo, c'hanno questo, c'hanno quell'altro, bla 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 bla... C'è la differenza tra noi e Real Madrid, una sola, l'allenatore, una sola, che loro sanno giocare a pallone, noi no, noi no, noi ce ne sappiamo giocare a pallone, per un semplice motivo, perché la Juve non sa giocare a pallone, ho detto 20 miliardi di volte, la Juve non ha un gioco, non ha nulla, si affida sempre al caso, punto. Se gli dice culo, bene, se no non vince, soprattutto con squadre del livello del Real Madrid, quest'anno nel Real Madrid, in Liga non è che va tanto bene, però tanti dicono, eh però, in Liga, Ronaldo fa un sacco di gol, perché ci stanno squadre de merda, eh, siccome Ronaldo ci segna spesso a noi, allora pure noi siamo una squadra de merda, eh, è normale, no? Siamo al livello delle squadre de merda spagnoli. State versitti, state, a volte guarda, veramente fate piagne, fate piagne e fate ride, per le stronzate che dire. Real è forte, la squadra è forte perché sa giocare, ha giocatori che sanno giocare, noi non sappiamo giocare, quella è la differenza, è questa la differenza. Alessandro è irriconoscibile, veramente irriconoscibile, un giocatore che è arrivato fortissimo e è diventato una pippa, tanti giocatori diventano pippe, perché? Perché quando tu fai un tipo di gioco, un tipo di gioco che tu non pressi mai, ti affidi al caso e non hai, capito? Ma noi tanto dobbiamo andare al circo per divertirsi, infatti stasera se siamo divertiti, stavamo al circo, se siamo divertiti tanto, avete visto quanto mi sono divertito? Io mi sono divertito, stavo al circo, stavo, avete visto che roba? Vabbè, vaffanculo vabbè, comunque complimenti a Ronaldo, ha fatto un gol pazzesco, poi vabbè se ne è bagnati due, se ne è bagnati clamorosi, però vabbè ne ha fatti due, tutti e due belli, ma al secondo è uscito da quello, ho fatto applauso, mi sono guardato, ho fatto proprio, grande Ronaldo, grande Ronaldo, Ronaldo è grande, 33 anni e gioca come un ragazzino, come un ragazzino. E poi non è che, sai Real Madrid, se tu vedi come gioca Real Madrid, fanno buoni fraseggi, però non è che pressavano a volte per... Tranquilli stavano, giocavano tranquillamente, capito? Consapevoli che noi siamo pippe, perché lo sanno, perché la Juve come gioca, sanno che giocavamo del merda, loro nel momento opportuno ci furgano, è normale così, noi invece dobbiamo fare fatica, perché quando dobbiamo giocare bene, dobbiamo giocare qua, ma quando, ecco lì, non siamo buoni, non siamo capaci, non siamo capaci. L'ho sempre detto, questa squadra non c'è ne capo e ne coda, si affida al caso, stasera 3-0 in casa, ma poi adesso potranno essere pure 5, 6 potranno essere... Noi abbiamo avuto delle occasioni, però abbiamo avuto, sempre su quelle sfuriate, come succede in campionato, però questo giro culo, non c'è assistito, è quello, perché vincere con il culo, ho detto sempre, il culo non è eterno, non è eterno. Lasciate che cazzo stiamo a parlare. Allora, cara società, fammi questo cazzo di favore, ecco, ma non la fanculo e non se ne parla più, perché là faremo un'altra figura del merda. No, no, adesso Napolà, tanti convinti, no, come... No, Napolà gliene famo 4 a Madrid, noi gliene famo 4, passiamo il turno, sicuro, 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 perché noi nel doppio confronto siamo più forti del Real Madrid, eh, tutti lo dicono, tutti hanno detto. Ah, fate ridere, fate veramente ridere, guarda, veramente ridere, guarda, c'è cazzo da fare. Purtroppo voi non riuscite a capire, se voi vedete la squadra, come gioca, voi guardate solo il risultato in campionato, potevamo vintere pure un miliardo di scudetti, un miliardo ne potevamo vintere, ma noi la Coppa non la vinceremo mai, 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 se abbiamo questi allenatori del cazzo non vinceremo mai, poi questo specialmente andò in perdente, in Coppa sei un perdente, l'ho sempre detto, sei un perdente, poi arriviamo pure in finale, ma alla fine la perdi. C'è un allenatore che fanno giocare le squadre, perché noi, come ho detto, che i giocatori che abbiamo, sembrano morti i giocatori nostri, sembrano morti, 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 messi in mano un altro allenatore, un allenatore tipo Guardiola, ma pur a Conte, va a fanculo, questi qua camminavano come lepri, invece calmi, lenti, impacciati, ti ho detto, si affidava al culo, sperando che la sorta ci assista come sempre, ma do cazzo andiamo, ma do cazzo andiamo, dove cazzo andiamo, ma un'altra figura del merda la rifaremo a Madrid, diciamo, un'altra figura, no, no, ma un 4-0 iniziamola, sicuro, iniziamo 4-0, passiamo noi il turno, ah, un 4-1 noi passiamo, noi fanno 4-1, passiamo noi, sicuro, 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 sicuro che passiamo noi, sicuro che passiamo noi, giocatela, 4-1 per la Io, giocatela, sicuro che passiamo. va bene, io vi saluto, tanto ormai è inutile, ho detto, a questa coppa con allenatori del genere, non si vincerebbe, bisogna trovare un allenatore, un allenatore con i controcazzi, cioè un allenatore con i controcazzi, perché in realtà, questa sera è stata una buona squadra, le azioni le ha sfruttate, quelle buone azioni le ha sfruttate, e noi, noi come al solito, giochiamo un po' a bambera, giochiamo, poi sempre, ormai ci conoscono a memoria, mi ha detto bene, che ce l'hanno fatti solo 3 stasinari, può essere molto più pesante la storia, va bene, io vi saluto, so deluso, amareggiato, per una sconfitta interna del genere, ma come ho detto, è inutile, è inutile che mi stai ripeti, perché tanto, chi vuole capisce, l'altro non capiscono un cazzo, perché è inutile che parli con questi imbecilli, gli ho detto, io la Io la voglio vedere vincente in scena, del campionato, della Coppita, non me ne frega un cazzo, non me ne frega un cazzo, io voglio vedere, io ho vincente in scena, ok, la società ha fatto la squadra, per vincere in scena, non per vincere il campionato, per vincere, il campionato, è normale, con questi giocatori, con questa squadra necessaria, è normale che vinci a occhi chiusi, ma quando trovi una squadra del genere, favo solo figure de merda, perché abbiamo un gioco di merda, ciao regà.